Grazie a tutti. Ma anche i rientri e le solidarietà delle comunità italiane che vivono nel mondo. E oggi il nostro presidente Sergio Mattarella ha deciso di entrare nelle vostre case per dare il suo messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutte le nostre comunità. Ha scelto le telecamere di Rai Italia e questo ci rende molto orgogliosi. Allora ascoltiamo insieme il suo messaggio. Rivolgo un pensiero pieno di affetto a tutti gli italiani residenti all'estero. So con quanta partecipazione avete seguito le sofferenze vissute nel nostro Paese per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa. Eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine italiana diffuso nel mondo. Un sentimento di unità e di solidarietà per il quale vi esprimo riconoscenza. E' stata una prova che ha posto in evidenza valori di civismo e di dedizione alle persone in difficoltà. Valori che rappresentano base importante della nostra società e che alimentano la vita delle nostre istituzioni democratiche. Nei tanti borghi e città d'Italia, questa stagione è stata accompagnata da lutti e patimenti, cui si è aggiunto il dolore di non poter celebrare i funerali dei defunti, emergenza ora fortunatamente superata. Adesso l'impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro. Il virus ha superato frontiere e distanze continentali, ha messo in discussione percorsi e modi di vita consolidati. Questi mesi di pandemia, per molti dei connazionali all'estero, hanno aggiunto alla preoccupazione per la salute il disagio e il rammarico di non poter raggiungere i propri cari in Italia, anche per le restrizioni nei collegamenti aerei. La lontananza pesa sulle nostre comunità all'estero e tutte le istituzioni della Repubblica sono impegnate ad alleviare queste difficoltà. E per la sua parte, la rete consolare delle ambasciate è volta a rafforzare l'attenzione e ad ascoltare e corrispondere alle loro esigenze. La collaborazione e il coordinamento della comunità internazionale nel contrastare il virus, un avversario comune e ancora largamente sconosciuto, sta riconducendo gradualmente alla normalità, anche dei collegamenti e alle conseguenti aperture. Del resto, soltanto la conoscenza condivisa e un'efficace azione corale a difesa della salute da parte di tutti i Paesi può permettere di sconfiggere la malattia. Prima della pausa, prodotta al mese di agosto, particolarmente in questa condizione, desidero farvi giungere il sentimento più forte di vicinanza della Repubblica a tutti voi. Grazie Presidente, le sue parole di speranza ci confortano. Prima di passare all'argomento di questa puntata, le facciamo i nostri migliori auguri di compleanno, visto che ha festeggiato questa settimana proprio il suo compleanno.